Come si gioca a Starks, ovvero come si gioca al miglior fantacalcio a premi che ci sia e questo è più di un fantacalcio se ti sto già incuriosendo entra subito su Starks passando al link in descrizione avrai per te in omaggio 30 euro al primo deposito ma aspetta ad entrare perché è meglio se prima dai un'occhiata a quello che ti sto per spiegare ovvero a come funziona Starks e che cos'è voglio accompagnarti in un viaggio attraverso Starks passo dopo passo cioè io ti affiancherò in tutto questo percorso per farti capire come funziona veramente Starks e perché secondo me è il miglior fantacalcio a premi che ci sia partiamo dall'exchange, tu qui acquisti i token dei tuoi giocatori acquisti e vendi perché comunque il mercato è sempre aperto i token sono fatti in numero finito al momento del listing i token sono 10 milioni per ogni giocatore poi ne vengono bruciati mano a mano che questi fanno buone prestazioni e ovviamente meno token ci sono e più quei token valgono ci tengo a precisare una cosa tutti i giocatori che troverai su Starks hanno firmato un contratto con Starks per cedere il diritto di immagine e tutto il gioco a premi di Starks è normato, tutelato dalla legge e seguito da un notaio c'è un notaio che ogni turno di serie A si prende giù la lista dei punteggi fatti dai giocatori su Starks e legittima la vittoria dei premi attualmente i giocatori su Starks sono circa una trentina circa ogni 2-3 settimane viene listato un nuovo giocatore che può essere una giovane promessa o un giocatore di esperienza tipo Milinkovic Savic e quando vengono listati i giocatori hanno un prezzo fisso mettono 5 milioni di token a mercato ad un prezzo fisso i valori dei giocatori sono mostrati in STK che è la valuta di riferimento della piattaforma a grandi linee un STK vale quasi 3 centesimi quindi il primo passo quando si fa un deposito è scambiare i propri euro in STK e sarà la cosa che farai al contrario quando vorrai ritirare i soldi dopodiché con gli STK compra i giocatori ci sono giocatori molto appetibili tipo Calafiori, Carnesecchi, Scamacca, Buongiorno accanto anche a giocatori un po' a fine carriera come Ciro Immobile che comunque è un campione vedrai che dopo il ritiro quel token si trasformerà in qualcos'altro e comunque è ancora utilizzabile perché il campionato turco è censito quindi è parificato alla nostra Serie A in sostanza Immobile può andarti a segnare di più degli attaccanti della Serie A perché è un campionato più facile ma il suo punteggio ha lo stesso identico valore nel gioco occhio! ci sono anche giocatori molto giovani come Martinelli accanto anche a qualche giocatore che milita in Serie B tipo Antonucci o Nassi e puoi utilizzare anche i giocatori di Serie B da quest'anno novità di Starks perché fino all'anno scorso si poteva giocare solo con i giocatori che stavano in Serie A come ti dicevo prima i giocatori appena listati hanno un prezzo fisso mentre ad esempio un Mirko Antonucci ha un valore che è dato dalla curva della domanda e dell'offerta banalmente più gente vuole comprare Antonucci più il suo valore sale e potresti anche giocarci come si fa in borsa se scorri in basso infatti puoi vedere gli ordini di vendita che ci sono attualmente quindi attualmente ci sono in vendita poco più di 2000 token di Antonucci a 0,05 STK e sotto invece vedi degli ordini di acquisto quindi c'è qualcuno che abbia fatto un ordine ad esempio a 0,034 STK per 27.000 Antonucci questo però vuol dire che se tu vuoi venderlo se lo vuoi vendere subito lo vendi a questo prezzo qua se invece vuoi venderlo guadagnandoci qualcosa imposti tu un prezzo PS io sapendo del fatto che probabilmente Starks avrebbe aperto la serie B bastava seguire le AMA settimanali che fanno tutti i venerdì e comunque anche nel loro gruppo Telegram se ne parla in descrizione trovi anche il mio gruppo Telegram su Starks entraci se vuoi avere qualche mio consiglio ho comprato un po' di Antonucci nei giorni scorsi ne ho presi a 0,027, 0,031, 0,043, 0,035 ora potrei venderli tutti a 0,05 ma al momento me lo tengo stretto perché aumenterà ancora di valore più giocatori entreranno in piattaforma una volta che hai composto il tuo wallet vai a schierare i giocatori giornata per giornata piccolo spoiler non ti serve un wallet da 2.000 euro per giocarci io sono dentro praticamente da un anno e mezzo quindi ho visto aumentare il valore dei token piano piano e poi ho vinto diversi premi vedi tutti questi crediti qua fai conto che 1.000 crediti sono 1 euro i crediti si accumulano anche solo lasciando in looking i tuoi token ovvero lasci bloccati per una settimana i tuoi token ogni settimana ti danno una certa percentuale in crediti quando i token sono bloccati ovviamente non puoi schierarli nel game però ad esempio adesso che siamo in estate è ottimo io ho tutto il wallet bloccato e accumulo crediti e questi sono tutti i premi vinti la scorsa stagione andando in game ad ogni giornata si possono schierare le proprie formazioni ci sono tornei stagionali che durano l'intera stagione e i tornei bisettimanali cioè che prendono due giornate di serie A di serie A più altri campionati andando a sbirciare il nuovo regolamento ci saranno delle belle novità quest'anno perché se prima potevi schierare solo 5 giocatori quest'anno puoi schierarne 6 di cui uno è per forza un portiere andiamo a sbirciare le novità da regolamento di Starks appena uscito intanto cosa fighissima il multi team con il multi team tu puoi andare a creare più squadre hai più possibilità di vittoria devi sapere che su Starks i campionati hanno 4 livelli 4 livelli dati dal numero minimo di valore della squadra che andrai a schierare valore dato in STK 1000 STK sono proprio il valore del livello 0, il livello base ovviamente più il livello è alto più i premi sono alti però per partecipare al livello 0 ti bastano 1000 STK che valgono meno di 30 euro al momento e se entrerai in Starks passando dal mio link in descrizione avrai in omaggio 30 euro al tuo primo deposito e il primo deposito basta che sia almeno di 20 euro è proprio il minimo tu metti 20 euro e te ne danno altri 30 per giocare però se ti posso dare un consiglio già che stai facendo l'investimento di 20 euro mettigliene 40 e partecipi almeno al livello 1 perché avrai 40 euro messi da te poi 30 offerti da Starks quindi abbiamo detto livello 1 partecipi con circa 70 euro di valore di squadra livello 2 partecipi con un valore di squadra da 450 euro e c'è il livello 3 il migliore partecipi a questo livello avendo 30.000 STK di squadra quindi circa un valore di 900 euro l'anno scorso giocavo sempre al livello 3 rispetto allo scorso anno hanno aggiunto questo livello 0 che è diventato un po' più accessibile prima ci volevano più STK per giocare invece così è veramente veramente facile giocare novità hanno aggiunto i campionati esteri come ti dicevo prima eravamo bloccati solo sulla serie A invece adesso ci sono tutti questi campionati stavamo parlando della possibilità del multi team tu puoi avere fino a 5 squadre diverse nella stessa giornata però c'è un però ad esempio io ho calafiori posso schierarlo solo in una squadra non posso andare a dividere magari ho 10.000 STK di calafiori in due tranche da 5.000 STK dividendo in due squadre no puoi metterlo in una sola squadra quindi consiglio che ti do io fatti prima una squadra fatta bene forte e dopo pensa a fartene altre magari a livello più basso andando a metterci token che in quella giornata non vai ad utilizzare come ti dicevo da quest'anno si schiera un portiere più 5 giocatori di movimento ci sono sempre le tattiche da acquistare e sono queste qua una tattica utilizzabile una giornata costa mille crediti che sono circa un euro le tattiche ti danno un bonus in percentuale sul punteggio finale in sostanza la tattica la devi mettere su sempre le tattiche sono in aggiornamento quindi studiamocene a modo quando usciranno tra poche settimane da quest'anno hanno introdotto le sostituzioni puoi avere fino a 6 giocatori di riserva la panchina non è obbligatoria però ti dice che le riserve devono avere lo stesso valore in STK del giocatore sostituiscono esempio schiero mille STK di Milinkovic Savic devo avere almeno mille STK di Okoye in panchina per sostituirlo se Milinkovic non gioca però penso che l'opzione delle sostituzioni sia ottima da usare soprattutto sui giocatori di movimento ma banalmente basterebbe mettersi in panca un difensore, un centrampista, un attaccante per stare un po' più tranquilli vedi perché ti dicevo fatti prima una squadra buona e dopo pensa al multi team a proposito di un consiglio buono io sono Michele ti aiuto al fantacalcio e ti aiuto su Starks per cui seguimi è gratis già che ci sei lascia un bel like scaccia sfiga ogni torneo dà dei premi su Starks c'è un monte premi di oltre 100.000 euro oltre anche a experience che saranno proposte molto presto grazie alle partner che Starks sta facendo con i club di serie A per ora c'è il Genoa ma presto verrà annunciato un'altra squadra trovami un altro fantacalcio così il torneo stagionale mette insieme tutti quindi qui tu non hai il livello 1 livello 2 livello 3 eccetera ad esempio quello che ha vinto l'anno scorso ha vinto 2.430.000 crediti che equivalgono a 2.430 euro il secondo 1.700 euro il terzo 1.400 euro io qua sono andato così così sono arrivato al 48esimo ho preso 32 euro ma io trovo più interessanti tornei bisettimanali cioè ogni 2 settimane ci sono tanti premi a livello 3 ad esempio ogni 2 settimane c'era chi vinceva 650 euro 400 300 in questo torneo sono arrivato al livello 2 quindi il torneo intermedio 18esimo avevo preso 20 euro però nell'anno di premi ne ho vinti diversi una volta arrivato terzo classificato a livello 3 e mi ero pigliato su 300 euro una volta 15esimo 15esimo ho preso 100 euro e altri premi minori 30 euro qui 80 qui 20 lì 32 là dopo vai a convertire i tuoi crediti in premi ci sono ad esempio degli iMac ci sono degli iPhone ci sono degli scooter ma anche Playstation altri pacchetti di giocatori ma anche più semplicemente buoni Amazon buoni Dazon buoni Netflix se vuoi monetizzare obiettivamente è un buono Amazon con cui compri tutto quello che ti pare come avere in mano dei soldi entra subito su Starks passando al link in descrizione avrai per te in omaggio 30 euro il tuo primo deposito mi raccomando entra anche nel gruppo Telegram se vuoi avere qualche altro consiglio su come muoverti su Starks per come la vedo io Starks è meglio di un fantacalcio a pagamento perché comunque sia è vero tu paghi per prendere i token dei giocatori ma i token rimangono tuoi e comunque hanno un valore possono anche salire nel tempo se scegli i giocatori giusti c'è anche chi utilizza Starks soltanto come fosse un talent scout cioè va a comprare vendere i giocatori se guardi questa percentuale qui è di quanto il token è salito rispetto al prezzo di listing il prezzo fisso c'è chi è salito del 500% chi del 200% chi del 300% poi ovvio c'è anche chi è salito meno del 14 e del 19 e anche chi è andato giù immobile è calato tantissimo anche perché lui era stato listato a un STK è stato il primo giocatore sulla piattaforma ciao e buon fanta Starks a tutti a proposito di fanta Starks la mia asta con gli altri creatori in live direttamente dallo studio di Starks sarà l'8 agosto alle ore 19 buon fanta buon fanta Grazie a tutti.